In seguito al botte e risposta tra Fondazione Giovanni Paolo II e la Regione Molise, la consigliera annuncia l'attanzio e secchiasse il senso dell'autonomia regionale se poi si decide nelle sedi di partito sulla mail privata. La Presidente della Quarta Commissione consigliare rispinge ogni dinamica attuata che a suo dire non avrebbe nulla a che vedere con la politica trasparente che invece andrebbe discussa opportunamente e doverosamente nelle giuste sedi. A seguito delle ultime diatribe tra la Regione Molise e la Fondazione Giovanni Paolo II, il capo della Quarta Commissione evidenzia il fatto di non essere mai stata coinvolta nelle trattative preliminari dei piani operativi ormai di dominio pubblico. La Presidente nei suoi interventi in aula infatti ha sempre ribadito l'importanza della garanzia dell'autonomia regionale, producendo anche personali atti consulari a supporto e la necessità di rispettare il percorso degli organi consigliari per quanto attiene le procedure di recepimento di iniziative legislative aventi all'oggetto materie di particolare interesse collettivo, tra cui naturalmente quella afferente alla salute. Per dette ragioni, con estrema urgenza, la consigliera Lattanzio avrebbe convocato per il prossimo lunedì 18 aprile un'edizione con il commissario ad acta alla sanità e presidente della Regione Paolo di Laura Frattura. Immediata la risposta del governatore all'invito della Lattanzio, Frattura avrebbe ricordato alla consigliera che non è nelle sue prerogative e nei suoi poteri convocare tanto più per audizione il commissario e il subcommissario della sanità molisana, che rispondono solo al governo che li ha nominati con delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri per la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi sanitari. In questo lavoro il commissario è affiancato dai Ministeri della Salute, dell'Economia e Finanze, dunque se c'è qualcosa che non è trasparente e fuori sede istituzionale, sono in richiamo alla convocazione della consigliera Annunzia Lattanzio. È evidenziato Frattura che ha continuato, ci fa specie che a una persona così prodiga di citazioni e riferimenti normativi possa essere sfuggito questo dettaglio. La consigliera Lattanzio a tal proposito ha indetto per questa mattina una conferenza stampa urgente in cui è esordito e forse populismo chiedere che di sanità si discuta in Consiglio regionale l'interrogativo della Lattanzio, che ha sottolineato poi il ruolo e le funzioni istituzionali della Commissione Consigliare che presiede, sottolineando il fatto che sottoporrà al Presidente Mattarella in visita in Molise tra qualche giorno, questo da lei definito conflitto di attribuzioni.